Dai, ora funzionerà però, eh? Eh sì, eh. No, 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 mi c'hai un'attesa, la donna! Ciao. Tra l'altro, scusate, ti mando un messaggio in più lato su Telegram, se puoi leggerlo adesso. Sì. È importante. Mi immagino. Ma chi? No, non... È una domanda. No, 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 non ci posso credere. Secondo me sì, eh. No, aspetta, raga, controllo una mail, eh. Sì, sì, sì. È il lavoro. Perché c'è una dv, è che è grosso così. Non ci posso credere, veramente. No, no, raga, è che c'era... Però è che, tramite il sangue di Nanni... Sì, sì, te, che non so, la DS. Esatto. Vedi, è vero. Io ci sono, eh, quando vuoi, dimmi. Anche io, che io. Ah, ok, ti faccio il calcio. Fai la clancata, vai, al volo. Dove eravamo arrivati? Non me lo ricordo. Ah, no, abbiamo fatto le ombre, fra. Ti ricordi? Non me lo ricordo. Eravamo arrivati qua, al super mausoleo dei cazzi. Eccoli. Facciamo la fungaia. Allora, mentre te fai la fungaia, che io sono arrivato, l'ho sfatto alla grotta, e poi ci si ricongiunge di là, io esplorò i boschi rimanenti. Ah, ok, ok. Perché mi manca una salitina, mi pare. Ragazzi, la roba è un po' improvvisata, eh, abbiate pazienza. Che fate? Sono bene a scherzo. Credo che si possa fare, però fai un po' come vuoi. No, la sborro run non esiste. Abbiamo ancora fatto. La sborro run. Ogni volta è una sborrata. Una sega in diretta è una sborrata. Bella. Dobbiamo... Adesso non serve più... Non basta più una cazzo di fiala per recuperarsi la vita. Ah, bella. Solo che Deo, ora ricordassi la fungaia, forse l'ho beccata. Aspetta. Trovata, forse. Sì, trovata. Sì, è dietro le gabbie dei cani. Se li faccio. Quando famo sto figlio con gli esseri, ma non è in programma. Qui cazzo sei di male? Certo. Poi è bello sto momento dell'anni 60, che ti realizzi solo se fai figlioli. Cioè, se spermi in una figa. Se spermi in una figa. Sembra una roba biologica. Delle piante, delle api. Mamma mia, che brutta zona. È già aperto, così. C'è una sorta di vestito per... Non lo so. Guarda, guarda. Sti all'intenzione un po' troppo lunghi? No, no. Sono otto minuti di fila di canzoni di te. Oddio, la famosa scorciatoia. Guarda, guarda dove sono. Questa è la scorciatura di un altro gioco. La volta scorciatoia è arrivato qua, ho aperto la porta e mi sono andato. Quindi non ho fatto niente. Prima o poi convincerò a fare secchio a nanni. Sono convinto. Se lo vogliamo provare a fare dopo questa... Sì, si può fare. Non ho mai chiesto a nessuna figa di Instagram di pisciarmi in bocca. La ricordo abbastanza stronzina questa. Ancora mi sbaglio, eh. Cazzo è tutto buio. Questo dovresti aprire all'inizio del gioco, proprio, no? Sì, sì, sì. Torni all'inizio. Però lascia un alieno. Eh, quello ti lascia un pisello nel culo, eh. Attenzione. No, non credo proprio. Sei mai espresso sul mare fuori? No, guarda, mi esprimo subito. È una merda. Mi fa cazzo. La gente resce con un palo nel culo e tutto surreale. Mi fa tutto schifo. Perfetto. E allora gli direi, andiamo un po' alla carrozza. Va bene. Allora aspetta, tornazione del cacciatore, che c'ho diecimila cazzi nel culo. Io vorrei togliere almeno un paio. Va bene. Da fare, per me si può andare a casa. Dai, facciamo prima il corridoione, dai. Io non so più che cazzo di vendare. E in base a quelle scala, dè! Va bene. Oh, fermo, fermo. Ma chi è sta topa, qui? Non è Valerione, ragazzi. No, non è a mia mamma. Che è? Oddio, un boss? Un boss della tesina. Sì. Ma proviamo il boss, c'ho nove fiale. Proviamo, dai. Bravo, Dario. C'è che lo provo un'altra volta. È pazzito. Adesso otto fianco. Minchia, bellina questa micro area extra. Ah, ma è lui? Ma chi è questo topa? Siete pazzo, sto. Forse lo possiamo per reale, però. Dazzing. Bello. Ma questo è al lumacofono, mi pare? Sì, era al lumacofono. No. No, Nani, non l'ammazzai, il coso. Non l'ammazzai. Che è ammazzato il vecchio? Non giocare. Asavia, il boss è il lumacone. E come ti capisci di ammazzare il lumacone? E si ammazzerà, De! No, non è morta, Chiociola. Basta chiederlo! Pecao, proprio minimamente. Ah, ok. Bello sto boss ragazzi eh Me lo ricordavo così bello Morto, shottato Guarda questa luna, gigantesca come il buco del culo Della mamma di brucata Vai, vai Vaffanculo te e la tua mamma Ti ho fatto acid, me la sono inculata oltre la notte No, ok Ora posso andare da la tizia e poi ti raggiungo Oh ma che la fai? Oh No, ne Ma perché? Non ho parola guarda Dato rinasce lei Rinasce? Sì, ti pare che non l'ho già provato a ammazzare Inizierà Posto No, non giocherò a Tec nel matrimonio di Di Poli Ma poi ragazzi Tec non lo sapete come funziona Nella mia vita videoludica Cioè fra tre giorni finirà eh Non porto neanche il green screen al matrimonio Però sarebbe bello Accompagnatore e ci metti sulla sedia il green screen appoggiato E queste cose sicuramente le prende bene Che non si imbarazza neanche Certo No ragazzi guardate non sapete cosa ha fatto Dario Guardate ho visto un cazzo, un cazzo rito E poi hanno sborrato Guarda guarda non è possibile Quella cazzo lì è Ma eccola Beba Me la ricordavo sta roba Rombala dè Bella Peura Ok Allora facciamo la carrozza Dai andiamo a farmare a Roma Termini Ora bisogna capire dove cazzo è la carrozza Aspetta rileggo lì Leggi l'invito un attimo Allora l'invito Dice Sto facendo un invito sbagliato Ah ero Emwick Quello quello Grazie per la saggift a sabaco una pentola È tipo una versione di cucina No Simone non posso ringraziare Grazie Simone per la saggift a Proscio Con la P Grazie per la saggift a Proscione Con la P Animale Grazie per il gift tesoro Ragazzi Ragazzi cioè Simone è bloccato Ha 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 regalato un abbonamento a Proscione Inferocito Grazie Mirko per la saggift a Nebrosauro E grazie a Cristian per la saggift a Riccone Anche a tanti soldi Sì sì certo No Le zanzarone Questo è Pisa D'inverno Non costrui le zanzare di Pisa Grazie Cristian per la saggift a Dark Proscione Sempre così eh Grazie a Wicked Faza per il Dai zi no Ma come avete fatto già Anne Nero Nero Segami In realtà Ecco la G Non so come faccia a sopravvivere sto profilo Grazie per il gift Bello Bello La saggift a Dario Moccia Senza Twitch Bello Il nickname No Simone Cioè questo è impossibile Sì Questo è impossibile Benvenuto Osho per Osho Che penso voglio dire Occhio per occhio Grazie X Z Luca per No raga però Cioè non è possibile Che la mesciata sia più Così Come fate Riccone da guerra In realtà ha scritto Cogliono Ma scritto proprio Proprio come Si 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 Riccone 34 Riccone 34 Non ho scritto Sempre mai Anche quello Eh ma è un errore di battitura Mi sa Bella Christian Veramente simpatica a leggere questa Grazie per la saggift a Megro Con la N però Grazie a Dani Per la gifta Riccone Megagalattico Sempre scritto male Grazie a Sempre solito Tra l'altro Un saluto a Finn Sì grazie Gianni per la gifta Finocchio Che ho scritto K Insino No Sì Per il gifta Eh appunto A grande Finocchio Vabbè Però insomma Credo sia l'ottaggio Comunque Grazie a Perlo Per il gifta Omega Caprocione Vabbè Questo lo possiamo dire Sbora sulle puppe Sei abbonato E poi l'ufa mag Grazie papà Grazie per la gifta Duce gay Vabbè Questo però Sì benvenuti Pinocchio gaming E tipo qualunque Bello Tipo qualunque È una bella È la versione cattiva Tipo il venom Del tizio No non posso ringraziare Tony Barro Odio i E poi Ragazzi Ragazzi Basta Ma che culo Ma A me non arrivano Sì Ma Pompino col culo 02 Super Non si può dire Man Gay E poi qualcos'altro Non si può dire Dario gay Benvenuto Non Goloide Grazie Benvenuto Anche a te I quanti benvenuti Spero vi trovate bene In queste Incredibili Grazie a Mario Arrampicatore sociale Nozi Ma come hai fatto A trovare Quello Sì Enward Er Eric Ecc Ecc Paco completo Saluta in culo Mi ha penentato Sì L'ho salutato Già in culo Grazie per il gift Tesoro Grazie per il gift Tesoro Bello Scream 77 Benvenuto Riccione Viaggiatore Grazie Grazie a J Luz Per il gift Da Federico Frusciante Che vabbè Non c'entra niente Guarda che figo Ferocio Sborrina dolce Madonna molto E poi non si può leggere Nanni gay 14 Venuti a tutti Scatica telegram Ripetiamo Grazie a Blenderino Per homosexuality Grazie a J Luz Per arinzarunza Steppisdunza Bello questo Bella rima Ok Dove sono? Ah eccoci Bene 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 Non proprio Faticissimi Guarda è arrivato È arrivato subito lui Poi inizia a picchiare lui Arrivano le amiche Fenomeno A me ha tirato una palla di cannone uno No zi Dai non si può Lo loser Aha Ah no scusami Loser Aha Che è la risata Che è la zio Che è la Riuscissi a farne fuori uno Mi basterebbe Guarda Va Fatti Inizio Oi 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 Vieni Ho capito Ok Ok uno è andato Maffanculo Vai fuori due Nel 2024 ancora Bloodborne comunque Andiamo un po' avanti Sì E' ancora bello Insieme avanti vanno anche indietro Quando è culo tu ma troia Fatta Mamma mia Bravo Che palle ragazzi Che due coglioni Sotto un tunnel di roccia l'avevi trovato te? Sì Non ci sono andato però Perché c'è il cane che dorme Non so se vedi Vogliamo provare a farlo? Ma Non lo so Io sto andando lì dove dici Tendere il cane Ok Quindi torna dietro anch'io adesso Allora No è vocato Ma è velocissimo Sì Danno Facciamo più danno E i tre cosini Ah beh Quelli sono micidiali Gli npc Cattivi in questo gioco Sono Terrificanti Ah l'hai fatto? Sì C'era l'evocazione Ho avvocato per i sbagli Mi sembrava un drop Della geggini Ho visto una cagnaccia Ma penso fosse tua mamma Senza fi Io non c'ho smogli E poi Cimitare alla bergola oscura Mi sembra Ok Che mi sono Sì Guarda dove cazzo sono Sei In quel posto Dove sti dice Ma non c'è un cazzo così Non è possibile Senti ma ti fa armature Da comprare con i punti Ma non c'è ne sono No Non mi spoglio Non attacco il volante Non approvvisare Ma che stai leggendo Ma chi sei Sabacchio A cugliore A sveglia Torna a fai versi Mamma Valeria Oink oink Io non capisco Qui sotto Bisogna e bandare Secondo me Ma non c'è Nani ma dove cazzo siamo Io Quindi non c'è senso Ah guarda Ecco No Nani Ho riunito le zone Ho capito cazzo Se entri nel vassoio Fai tutto un pezzo Che poi ti fa Lasciar cattar boss Diciamo Ok Meno male Ciao Sono Garimso Ho comprato Le mutande Dell'annone No Dario È finita Terzo Basta Non c'ho più voglia Mi sono rotto il cazzo Troppo snervante Sta zona da esplorare Basta basta Anni Ho staccato Adesso rimorto l'ennesima volta Basta Ah è qui Va bene Va bene Si continua la prossima volta Vado a pisciare un attimo Perché sto morendo Io Ma potrei aver fatto un errore gigante Non c'ho più voglia Al prossima volta Vado a pisciare un attimo Grazie a tutti.